Allora, io sono Elisa e lavoro qui a CSF, è un incontro al mese, ci incontriamo con Simona Pizzoni e oggi c'è un ospite, ok, ci sono due visualizzazioni, quindi sta funzionando. Bene. Ok, vai Simo. Bene, grazie Elisa. Sono molto contenta da un lato che l'online ci permetta di fare degli incontri che altrimenti non potremmo fare perché Justina adesso si trova a Tbilisi, in Georgia, nel Caucaso, quindi sarebbe stato un po' complicato averla qui con noi in presenza, però la tecnologia comunque rimane qualcosa di veramente devastante per certi versi, quindi grazie Elisa di avere risolto. Questo è il secondo incontro di una questione personale, è un ciclo di incontri che sto organizzando assieme a questo gruppo di fotografi, a una parte di questo gruppo di fotografi creativi con cui abbiamo creato una nuova agenzia, ormai non più, dico nuova sempre perché però è nata nel 2017 in realtà, quindi ha già alcuni anni. È un'agenzia, è un collettivo, è un laboratorio creativo, ci sono diversi fotografi ma non solo, questa è una delle nostre particolarità, di avere aperto comunque un'agenzia ad una serie di altre professionalità, tra grafici, abbiamo chi si occupa di moda, abbiamo chi si occupa di, chi ha lavorato tanti anni con le ONG, abbiamo insomma vari tipi di professionalità e contiamo insomma di riuscire ad ampliare le nostre collaborazioni anche nel futuro a vari tipi di altri atti. Il ciclo di incontri si chiama una questione personale perché quello che ho chiesto ai miei amici e colleghi è di raccontarci uno dei loro progetti e scegliere un progetto che per loro rappresenta una questione personale. Io credo che in fotografia quando lavoriamo a qualcosa dobbiamo scegliere di raccontare qualcosa che per noi sia caro, che sia qualcosa a cui siamo profondamente legati e è proprio questo legame che abbiamo con il tema delle nostre fotografie, con i nostri soggetti che fa sì che poi questi lavori crescano e diventino qualcosa di grande e di importante. Quindi ciao Justina, grazie per essere qui. Ciao, grazie a te, e anche online. Anche online. Anche online. Justina è una fotografa, ha vinto moltissimi awards, tra cui il WordPress Photo, ha ricevuto lo Eugene Smith Grant, che è uno dei premi, diciamo, dei grant più importanti al mondo per la fotografia documentaria. Nasce in Polonia, ma da sempre, diciamo, si occupa di tematiche anche che riguardano molto le donne, lo vedremo, in tutti i paesi che furono dell'Unione Sovietica, insomma nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Da quasi vent'anni si è trasferita appunto a Tbilisi, in Georgia, nel Caucaso e quella è stata una parte fondamentale del suo lavoro. C'è anche un bellissimo libro che è uscito nel 2014 e questa sera ci parlerà invece di un altro lavoro molto lungo e molto importante per lei che è un lavoro in Ucraina. Però io volevo cominciare subito intanto a chiedere a Justina come è iniziato e come e perché si è avvicinata alla carriera di fotografia e quali sono stati i primi passi. So, first question, it would be like for everybody, it's very interesting to know how you approach photography in the first place and how, I mean, why and how you approach photography in the first place? First of all, photography is, I would say, tool of choice, of talking about the world. You know, you can paint, you can write in, I would say, art field. So, we have a few tools to choose. We can mix them to express, you know, what we think about the world to collect thoughts and bring them back. And for me, it's a photography, mainly a tool. It's a tool of research, it's a tool of documenting, collecting and reflecting, I would say. I use as a black color object. I like to even change cameras some because I think by changing cameras, you change your way of seeing. So, it's nice to switch between the digital twin lens camera and each of them makes you think different and look different. And I like to do it sometimes, especially if I have a money to buy a film for the camera. Oh yes, of course. La macchina fotografica per lei è un vero e proprio oggetto. Le piace cambiare macchine fotografiche, cambiare lenti, passare dall'analogico al digitale perché dice che ognuno di questi cambiamenti è come se fosse un modo diverso di vedere e quando si può anche comprare delle pellicole. Ok, so what was your first approach with photography? What was your first work? My first work, I mean, it's like I started, you know, totally like doing the benches in the park when I was in a secondary school. And then I pick up photography much later, pretty much at the end of my study at the university. I have a good friend, which was a photographer, actually half Italian, half Polish, half Italian, with the last name Ranio, which is a spider, yeah? Yes, Ranio is a spider. Yeah, he's like, and Zane, with very Polish name Ranio Pilichowski. Yeah, so he was my friend and the teachers at university and he was a photographer doing very beautiful work, actually. And he was like, I would say, my first inspiration to do it like the way the documentary photographers would do it, just walk around and just photograph life. Yeah. And then my first work, I think my first work was in Poland about the, it was a punk, group of punks, which were in the same time making the shoes. And it was kind of like my friend was making a documentary movie about them and I was photographing kind of parallel to that. So this was the first work I did in Poland. Yeah. They were doing shoes? Shoes, making shoes. Yeah. Making shoes. Making shoes for punks, yeah. You know, the kind of these people were. Yeah, I know the punks. How old were you when you started? I think I was 20, when you finished university, 22 or three or something like that. You know, it was quite late, you know, I would say. Yeah, I don't think so. But anyways, I started at 29. I didn't have my camera. My father had camera twin lens, actually Soviet twin lens camera. And he was taking a lot of pictures, you know. So, but my mom throw away all the negatives because, you know, she was digital before even the digital was invented. Okay, cool. That's it, yeah. Allora, dice che come molti ha iniziato quando stava finendo le scuole superiori, perché le ho chiesto qual è stato il suo primo lavoro, come ha iniziato, e dice, andava al parco, fotografava gli amici, un po' come tutti, e solo verso la fine dell'università, quindi lei dice, tardi, cioè verso il 22-23, insomma, ha iniziato veramente ad approcciare la fotografia in maniera un pochino più, diciamo, seria, un po' più professionale. La sua prima ispirazione è stato questo suo caro amico, che di cognome faceva Aragno, che era mezzo polacco e mezzo italiano, che era, dice, un bravissimo fotografo, in realtà, con delle fotografie che l'hanno ispirata molto, e quindi questo è stato appunto il suo primo approccio proprio un po' più professionale con la fotografia. Il primo vero lavoro, dice, che probabilmente è stato ancora in Polonia, ed era questo gruppo di punk che facevano delle scarpe per punk, e c'era un suo amico che stava facendo un documentario video su questo gruppo, e lei ha iniziato a fare le foto. In casa sua, suo padre aveva una Rolliflex, o, was it a Rolliflex, vabbè, una B, una simile Rolliflex? It started, it was a Polish version of Rolliflex, you know, called start, which is a beginning, it's called, I mean, in Polish. Ah, ok, una macchina, diciamo la versione polacca della Rolliflex, che è il cui nome, non posso ripetere, ma che comunque significa l'inizio in polacco, e dice che sua mamma distruggeva tutti i negativi che suo padre faceva. Ok, so, I would like you to start to show us some images, because I've asked you to collect five images from five works that you want to show us. So while you share, I will translate. e ho chiesto a Justina di raccontarci in cinque immagini alcuni dei suoi lavori più iconic, come si dice in americano, cioè quelli più importanti, no? Quelli che l'hanno segnata di più. So, I share my screen, and I go to share, and I go to my slideshow, view, and the full screen. Can you see? Yeah, I do. Ok, so, you know, it's like, ok, I'll start with the image, you know, it's like, when you ask me about iconic images, you know, it's like a really, there's a lot of them, and some, some, and they are changing, you know, because I cannot, like, remember my first five iconic images, so there are, like, there's a fluctuation there. But, like, really, when I was trying to reach as far back as I can with my memory, to think of, like, which photograph was, I was looking at, and I like, I was at this photograph, I don't know where I found it, but I was still living in a, in a kind of village with my parents, going to a secondary school, and I found it extremely beautiful as a portrait, and I cut it out, and I use it to decorate some box, which I keep the pencils and stuff, so it was something on my desk, it was lacquered afterwards, it just, so, you know, it was before I even thought to never be a photographer. I just love this image, I love this face, and this was, like, really the image, which was one of the early photo images, was really on a daily life next to me, because I choose it as its beauty. Yeah. Wonderful. Allora, io le avevo chiesto, appunto, di raccontarci in cinque immagini iconiche qual è stato il suo percorso, no? E la prima immagine che sceglie è questa che state vedendo, dice che non sapeva nemmeno esattamente da dove è andata a ripescare questa immagine, perché ha provato ad andare indietro nel tempo a ricordarsi molti anni fa, quando era al, alla scuola, al scuola superiori, insomma, che cos'era che le piaceva, che cos'era che teneva vicina. E questa immagine, era un'immagine che lei aveva ritagliato, che aveva incollato su una scatola in camera sua, e quindi effettivamente, pur non sapendo esattamente cos'è che l'aveva mossa così tanto in questa immagine, adesso, no? Non riesce a ricordarsi qual era la cosa che l'aveva mossa così tanto in questa immagine, però si ricorda di avere, e questa è stata l'immagine che è stata quotidianamente, per molti anni, fisicamente vicina a lei. Yeah. e naturalmente, come ho progressato con la mia vita, e ho avuto più vicino a la fotografia, io, proprio per un accident, ho chiesto di libri. Quando ero, ero chiesto di libri, non avevo capito di chi è chi, perché non c'era internet da qui, per cercare cose, non c'era wikipedia a tutto. and inspired me, so I don't know if you want to translate that or I should move on. No, wait a minute, wait, wait. La seconda immagine è questa immagine di Cathy Bresson, nel momento in cui lei ha iniziato ad avvicinarsi di più alla fotografia, la prima cosa che ha fatto è stata iniziare a comprare dei libri e all'epoca, dice, non c'era neanche tutto questo internet, per cui era anche difficile, diciamo, sapere prima di chi fosse tipo un libro o quale fosse il profilo di un fotografo, per cui i libri li sceglieva anche in maniera abbastanza casuale, e così ha incontrato appunto Cathy Bresson e questa immagine, come molte altre, del suo lavoro, per lei rimangono di enorme ispirazione, perché è questo che lei dice è questo cogliere il momento in mezzo, il momento tra due cose, tra due avvenimenti che stanno accadendo. La funny cosa che vedo è che è che questa traduzione ha fatto il tempo di pensare, che ho fatto che i miei immagini che sono iniziati, che ho una persona che guarda in teore, e ho sempre piace in fotografia, non mi piace in questo, come hai bisogno di capire il momento in cui non guarda la persona guarda. Ho sempre pensato che è bene quando una persona guarda la persona guarda, perché è the connection which viewer can make with the picture this person takes you in because look you straight into the eyes and I you know I think the mix having this is very nice and I always tried to have it somehow in my work ok dice che adesso rivedendo queste due immagini mentre io facevo la traduzione ha notato una somiglianza tra le due immagini che ho scelto ed è questa cosa del fatto che ti guardino che le persone che i soggetti ti stiano guardando no e al contrario di quello che spesso si dice no che bisogna fatturare il momento come se uno non fosse presente no quindi le persone non si devono mai guardare non si devono quasi accorgere in realtà a lei è sempre piaciuta molto questo questo sguardo no questo contraccambiare lo sguardo che è un modo di tirarti dentro la fotografia so then as I knew how I want to photograph then it was the questions how long it takes to make a book because then as I learned from the books then I start calculating adding the dates looking at the index you know how many years it took to the photographers make a book like this it was really all that simple how I started so there was the two books which very much inspired me and I have both of them in TVDC with me and believe me when I buy books in Poland I weigh them you know because it's the limit or bring them so first one is first book of Salgado other Americas and you know I remember this photo was like I was thinking how did he do it did he go down it's like you know beside loving really all the works and the other is by Economopoulos also his first book about the Balkans and both of them spent roughly around 10 years to make those books and I just thought this is the time you need to make a books and I allocated 10 years to make my first Caucasus book yeah I like you being so trying to be organized I started more than later I realized that life is only maximum hundred years and you have to do the things faster okay Allora dice che la la prima cosa che si è domandata nel momento in cui can you go back to the other picture in the meantime one sec thanks la prima cosa che si è domandata quando ha iniziato a lavorare con la fotografia professionalmente è quanto tempo ci vuole per fare un libro era letteralmente innamorata dei libri e davvero considerate che all'inizio quando quando li comprava andavano c'era un limite massimo di peso che lei poteva comprare che ovviamente comprava all'estero e che poteva arrivare in was that in poland were you bought those were you still in poland right no this actually i was in states but after finishing university i put this on a flea market in states oh god there's an extra guy selling stuff ok ok wonderful ok praticamente comprava da una sorta di flea market dei praticamente dei libri a peso in sostanza ed era molto eh importante la scelta per lei dei libri letteralmente cioè pesandoli no e uno di questi libri che per lei è rimasto fondamentale è Other Americas di Salgado anche perché proprio si domandava come ha fatto a fare questa foto Oltre alla bellezza di questa immagine, quella domanda era ma dove era? Come si è messo? Era in basso? Era in alto? Eccetera. The other one? Economopoulos. L'altro è il primo, se non erro, libro di Economopoulos che è In the Balkans. E una delle cose che guardava quando guardava questi libri era quanto tempo in sostanza ci avessero messo i fotografi dalla prima immagine che avevano scattato al momento in cui il libro era stato effettivamente pubblicato. E si è accorta che all'incirca erano una decina di anni. Per cui ha iniziato a lavorare con questa idea che ci volessero circa dieci anni per riuscire a fare il suo libro. Poi si è anche reso conto che non ci sono più di dieci decenni nella vita di una persona al massimo e quindi sta cercando di accelerare. Ok. Yeah, and then two, ok, I don't know. Yeah. Two more things, it's like, you know, my very, I always loved August Sander, but like recently, like last year, I've seen the full, the book, there's a book existing, which has seven volumes, which has probably all the works he did of his huge project, which he did, envisioned for all his life, but never really finished. Which is a catalog of different professions and people of citizens of the centuries. I love it very much this work. And for example, the portraits from series of the soldiers, or here you have a person, the woman working in the radio from professions and persecuted Jewish men from the persecuted Jew sections of the, his catalog of 20th century. I love this absolutely very much. And I keep looking and loving this. Poi c'è questo, lei ha sempre amato molto il lavoro di August Sander, ha scoperto poi che c'è un, questo gigantesco catalogo di oltre sette libri che raccoglie praticamente tutte le sue opere e non si stanca mai di guardarlo. Queste sono, come penso che avrete studiato con Marika, secondo me. e no, c'è tutta la, tutta la storia, ci sono la storia delle professioni. Quindi c'è il soldato, you can change. Qua c'è una donna che lavora alla radio e un uomo, un uomo, un uomo ebreo perseguitato. Qua c'è un uomo, un uomo, un uomo. Non mi rimando da persone, non mi rimando da persone, mi rimando più e più in questo. Sì, io amo queste cose, assolutamente. E poi, per tornare, perché, you know, io stavo mostrando un progetto colore, e mi sembra che tutto il fotografo che mi ha fatto, era proprio blacca e blacca. ma questo è un altro portretto che è vicino a un'attrice italiana perché l'art, quando ho pensato, dove ho ricevuto questo colore? dove ho ricevuto questo colore? solo le foto che ho pensato sono black e white quindi perché ho ricevuto colore? Penso di l'articolo, guardando l'articolo questo è l'articolo che mi viene da colore e questo è come... mi piace Otto Dixon e questo è uno di questi immagini che avevano con me quando eravamo leggendo i primi libri, scoprono il mondo e l'articolo quindi sì, sicuramente Allora, un'altra grande ispirazione è Richard Avedon e soprattutto il lavoro su The American West che è meraviglioso, dice anche il mio sogno un giorno sarebbe proprio quello di andarmene in giro e fotografare le persone girando e dice anche che proprio sempre nelle foto che ha scelto ancora sempre più questa cosa dello sguardo dello sguardo della persona, quindi del ritratto che guarda in macchina Infine, per quanto riguarda i colori dice, io in realtà fotografo principalmente a colori però la mia fotografia se devo dirvi quali fotografi mi sono piaciute di più o mi hanno ispirato di più è tutta fotografia in bianco e nero e quindi da dove ho preso i miei colori e dice probabilmente invece dal mondo dell'arte in particolare, ad esempio, quello che le è venuto in mente è Otto Dix, dice che è comunque una dei pittori che ha amato di più e che comunque ha visto sin dai suoi primi passi mossi nel campo dello studio della storia dell'arte ed è un'altra di quelle immagini che l'hanno accompagnata da quando era molto piccola Ok E da qua cominciamo con il suo progetto invece sull'Ucraina che è quello che ci racconterà questa sera così vedete da dove arrivano questi colori questo rosso da dove viene So, now Simona, I don't know I just say few words the idea of project about Ukraine was born in 2008 born and written as a project fully project where I was gonna tell a story of Ukraine using the river, main river Dniepro as a metaphor line of reference to talk about the different aspects history, geography of the place as Ukraine and I start working on this project in 2014 early 2014, you know, essentially on my own because for all these years I couldn't find support for that so I just said like, look, it's like for myself it's like you thought it's important six years ago now so all these things are happening in Ukraine I think it's like you have to do it, you know so to myself, no talking so that's when I start working on the project but this is the one photo which is in my project from 2008 on the original first time when I was in Crimea and did the work so you went the first time for yourself, you know first time with the project with the collective Polish collective Sputnik I was with I was a founder and with and it was a story just about Crimea I did, which was yeah, tormented kind of between pro-Russian and pro-Ukraine forces, you know Ok Allora, questo il primo questa prima immagine è stata scattata già nel 2008 questo lavoro appunto è sull'Ucraina in in origine già nel 2008 c'era questa idea di raccontare appunto l'Ucraina attraverso il suo fiume principale che è il Diempne e raccontandone anche le le differenze geografiche sociali come cambia il paesaggio come cambia insomma come cambia la società appunto attraverso il corso di questo fiume all'epoca il primo viaggio che fece nel 2008 fu anche diciamo assieme a questo collettivo di fotografi polacchi che si chiamava Sputnik che stavano lavorando sulla Crimea in cui c'era comunque già una sorta di doppia fazione una pro-Russia e l'altra pro-Ucraina però in realtà da queste prime immagini fino al momento in cui Justin ha veramente iniziato a fare questo lavoro sono passati altri sei anni perché il vero e proprio lavoro inizia nel 2014 quindi appunto sei anni dopo ed è un momento in cui ha capito che era un lavoro che era per lei molto importante e che voleva riprendere in mano e poi ho metto Petro il ragazzo con il teddy bear mi ha conosciuto il ragazzo è stato uno di persone che stai in un libro e in un progetto e in un progetto in un progetto It's already a long time. Could you go back so I translate? Yeah. It's easy. Di fatto il suo, la prima immagine che avete visto, Back Back, è la cover del suo, di questo libro, di cui poi ci racconterà ancora qualcosa in più, proprio sulla situazione in Ucraina. Il vero momento in cui lei ha iniziato questo lavoro è stato durante le proteste di Maidan, che non so se vi ricordate, erano queste proteste di piazza di cui si è parlato anche molto in Italia in realtà. Uno delle persone che lei ha fotografato, The Soldier with a Teddy Bear, il soldato che vedete qua con il suo sacchiotto, è una delle figure che poi è rimasta nel lavoro di Justine, comunque ha continuato a fotografarlo per diverso tempo. Lui poi, diciamo che questa guerra, queste proteste hanno iniziato veramente a cambiare completamente la sua vita, ha fatto il volontario per andare al fronte e dice che ha comunque riportato dei gravissimi traumi. Sì, go ahead. Sì, so, I'll put the slide show, enter for screen. Sì, so, you've been there, you talk about this, so it's like, I photograph, as I said, during the three years, I was coming back, coming to Ukraine every, I would say, two months for a couple, two, three weeks. And, you know, the aim was to stick to the river, but in the same time, it was also to go away from the river, because I was going to just use the river as a point of reference. And I think it's good, because there was a mixture of kind of focus in the project, but also an openness. So, it allows you to really look wide for different things. So, you went for like three years or two, three weeks every how many months, every couple of months? Every month, every second month I went for two, three weeks. Allora, in questo progetto, per questo progetto ho lavorato circa per tre anni e un mese sì o un mese no andava e stava due o tre settimane, questo per dirvi il commitment a un progetto. Rimaneva questa idea del fiume, che era la sua idea iniziale, ma allo stesso tempo aveva iniziato anche un po' a discostarsene, per cui dice, c'era comunque una traccia che stavo seguendo, che era un focus su cui stavo lavorando, ma nello stesso tempo mi lasciava anche la libertà di aprire ad altro. Yeah, and it's like, as you know, very often the people ask me, for some reason it's really strange, because when you go to a place and you have two pictures from the, let's say, around where war is happening, and you have 20 others, you still think you're a war photographer, you know. Often people ask me if I'm a war photographer, because I guess a picture like this is done in Donetsk, but I'm not, you know, but I do work in a places where I would say, you know, the war is part of the story, and naturally I include it in my work, but it's never a main focus, you know, because I think that's not the way I see reality in, you know, say, separated chunks. So yeah, this is the photo taken in the infamous Donetsk airport, which was bombed and bombed. It was a kind of one of the most contested, symbolic front lines of this war, and I was very scared being there, but I was there, my friend was also there doing a documentary, and we went together, and I met this guy, which used to be the National Guard of Ukraine, and then he switched sides and joined the separatists later. Then, I was going back, yeah, I was going back and forth on both sides while, while, while photographing this conflict unfolding practically from the beginning of 2014. So, 2014, okay, could you go back? Yes, yeah, thanks. Dice che spesso le chiedono se è una fotografa di guerra. Allora, quello che le dice è che la guerra, in queste zone, la guerra è parte di quello che lei ha raccontato, no? È parte della storia. Sicuramente lavora anche in zone di guerra, però non si definisce veramente una fotografa di guerra. Questo è l'aeroporto di Donetsk, che è stata una delle linee del fronte più, diciamo, più famose, più conosciute. È stato un aeroporto che è stato bombardato e strabombardato, e anche simbolicamente uno dei luoghi più conosciuti di questa guerra. Per un periodo molto lungo, you can change, per un periodo piuttosto lungo ha cominciato a fare avanti e indietro dalla linea di confine, a partire dal 2014, raccontando un po' una frontiera e l'altra. Sì, per esempio, questo è uno dei primi, credo che è in giulio del 2014, uno dei dei primi grandi batti, che era un completo shock per gli Ukraini. I mean, quando, you know, c'è una città in the south dell'Ukraine, Nikolaiv, I think, dove molti soldati diedero durante un attacco. e c'era un shock. Later, you see this funeral, people, like, all villages, cities, meet people. It was a shock to see. And you see just some local women on the funeral of one of the soldiers which was drafted to the army from their neighborhood, where he went volunteering. Yeah. No, he was drafted, drafted. Questa foto risale a luglio del 2014 ed erano i primi tempi in cui c'erano questi attacchi violentissimi a questi villaggi nel sud dell'Ucraina e, di sostanza, durante questi attacchi c'erano stati diversi morti, diversi feriti e si vedono in questa foto anche, appunto, civili, donne che sono assolutamente rimaste scioccate da queste prime, veramente, avvisaglie di guerra e, in questo caso, mi racconta che era proprio un giovane soldato che era stato portato via in quella giornata dal villaggio. And in this photo, actually, family asked not to be photographed. Mother, there was a grave, there was a mother, she was crying and, you know, I was thinking fine, it's okay, it's no problem. I think very often people get fixated, they have to have this, but, you know, I think actually you find very different emotions and I think this emotion is very important because it's like a reflection of the pain, of the epicenter of the mother crying. I think the reflection is, in many senses, stronger. So, just to explain, then you just look around and you always find a way to tell the story. There's no reason to, you know, there's no reason I could be, like, really upset then I missed the whole Maidan and it's like, you know, one can be completely upset then you missed something. At the stories I'm going, you tap into, it's like through the river, to the narrative of, at one point and get out on the other and still is a chunk of real life. Yeah, of course. I so much agree with that. In questo caso, dici una cosa molto, molto bella, Justina, che questa famiglia, quella del soldato che era stato appena portato via, aveva chiesto di non essere fotografata. E quindi, anziché avere la classica foto, diciamo, quella che tutti si aspettano da una situazione di questo tipo, quindi un ritratto, ad esempio, della madre, eccetera, Justina decide di comunque lavorare attorno all'immagine e quindi lasciando, no, la donna con questo sfocato, di lato, la faccia, il viso non è riconoscibile. E dice, spesso come fotografi abbiamo questa impressione di che ci sia mancato un pezzo se non riusciamo a fare quella foto che pensiamo che sia quella che deve essere raccontata. Ma invece spesso, girando attorno all'immagine, si scoprono tantissime altre cose e tutto questo va a comporre, cioè tutte sono dei pezzi di realtà e tutto questo va a comporre un racconto più grande. Yeah? Well, yeah, again, it's like, you know, how you find the places. This was the, during this time, I was, we, I was, we were traveling with the family, my little daughter along the river and, you know, I was doing some work on my own then the rest of them to have them together and, you know, while they were in the bed, I read on a city hall webpage of the city of Cerkasy, then there will be soldiers coming from the front line and the family will be there and I went to see this arrival of soldiers which came after a year on the front line there was the officers like the, you know, the soldiers already came and there was the officers they were like, and they came and then this guy was greeted by his daughter and for me this photo, you know, like more than anything described the, I would say, the look on his face and the expression he has looking beyond the horizon to the emptiness, explains the, you know, the experience of people which were fighting and experience the war. Yeah, you need to translate. Yeah. Mentre stava appunto viaggiando lungo il corso del fiume a un certo punto in una città ha scoperto che ci sarebbe stato il giorno seguente un arrivo di soldati che stavano ritornando dal fronte, molti soldati dopo un anno di guerra. Molti soldati erano già tornati quindi erano rimasti gli ufficiali a rientrare e in questa immagine c'è questo ufficiale che viene abbracciato dalla figlia e la cosa che l'ha colpita era questo sguardo che andava lontano come oltre lei che effettivamente è estremamente indicativo che racconta moltissimo di come sia l'esperienza del combattimento in prima linea. Yeah. Then again it's like photographing a war and the place which is at war has a lot of regular life always going on. It's like but it's probably it's in Donetsk in April of 2014 before people knew expected then you know it's like I think people always know so it's the next village it's never gonna touch us it's like you know it's like here it's a big city you know well beautiful parks how it's gonna ever come here I think and I like this photo because it's the people are being blessed by priests during the Easter Orthodox celebrations and that didn't happen in this form next year because by the next year the city was already in the midst of the war so yeah so again it's oh yeah I know I know what the translating is always like no no I like it because it gives the time to look at the photos you know e questa immagine anche no è sempre riguarda il parlare di luoghi di guerra e di luoghi in cui c'è la guerra comporta anche scattare tante immagini di vita normale no di I experimented this thing about like the regular life in Gaza so there is a lot of regular life in every war zone dicevo che anche io quando sono stata a Gaza per tanto tempo insomma ho veramente fatto esperienza della vita normale che riesce ad esistere comunque all'interno anche di zone di conflitto quindi ancora una volta questa era Donets è una città molto grande questa è la celebrazione della Pasqua o a Prodossa e in sostanza le persone ancora pensavano che la guerra non li avrebbe toccati perché era una bella città una città grande con dei parchi bellissimi era tutto a posto nell'arco di un anno sarebbe stata al centro dei combattimenti sì piccola non esplicitazione solo il luogo di un paese che ha una città sulla superficie è un paese di Donetsk un parco potete vedere su un paese un po' di crepe con poche spiegazioni questo è un parco sempre nella città di Donetsk e dice semplicemente un paesaggio in cui ci sono delle crepe come potete vedere le persone che seguono con la storia è una città che cresce in l'Ukraine è una città in l'Ukraine in l'Ukraine è una città in l'Ukraine è una città in l'Ukraine e la prima è stata volontaria a Maitan a helping persone che sono scuritati c'è una città di ospedale e poi dopo Maitan è stata volontaria e poi è stata una città e poi è stata una città professionale ma è stata in un'ambizione in outside di Kiev come critic otspoken critic di Russia Chechen presidente è stata una storia tragica di un'interessante e il portretto che ho preso di lei in questo senso diceva che a un certo punto non ha mai scattato molti paesaggi ma ad un certo punto ha iniziato ad introdurre anche alcuni paesaggi come se dovesse quasi prendere un pochino più le distanze rispetto a tutto il lavoro invece di ritratto e subito dopo arriviamo a questo ritratto di Amina è una delle storie che lei ha seguito per diverso tempo nel corso di questo lavoro di origini cecene ha iniziato a essere volontaria come sergente dottore volontaria nell'esercito a Maidan andava ad aiutare le persone che hanno bisogno sul campo i feriti diciamo durante la protesta poi si è spostata direttamente sulla linea del fronte ed è diventata un soldato professionista fino a che non è stata uccisa in un'imboscata fuori Kiev e quindi dice Yusin è una storia molto lunga però è stato uno dei personaggi che ha più segnato insomma questo questo lavoro quindi poi ovviamente c'è molto questo conflitto è legato della strana 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 dell'Unione ma mi piace questo Lenin senza pezzi pezzi è c'è c'è una un paese c'è una c'è una c'è c'è il niprovka che viene dal rinvole il mio progetto era ancora rinvole non letteralmente la parte dei conflitti come quello ucraino derivano comunque da un'eredità di quello che è stata l'Unione Sovietica quindi in questa immagine c'è un Lenin senza testa un Lenin d'oro senza testa e in questa città, in questo villaggio che si chiama Njuprovska che prende il nome proprio dal fiume appunto a cui fa riferimento tutto il lavoro quindi questo fiume che continua a rimanere presente nelle sue foto ma mai in maniera letterale io sono da Polonia e in realtà da professionale sono un critico film quindi ho cresciuto in questa scuola polissica di cinema con il simbolismo che i filmatori usavano per uscire la censura tutto il Lenin senza la città mi sembra di arrivare da l'altro dice che di formazione ha studiato cinema e critica cinematografica in Polonia e quindi c'è questa nel cinema che è polacco ed è russo diciamo questo forte simbolismo quindi forse anche da qui derivano alcune inquadrature come questa che abbiamo appena visto di Lenin decapitato sì non una grande storia solo un giorno sul riveo Dneprò in città dove le persone vengono a dormire e la ragione ha divertito questa è la foto ancora sul riveo Dneprò in una città chiamata dopo il riveo con il riveo e questa è una roma ragione due sisters e io vengono da l'esterno part dove la guerra era già iniziare e io vengono a la città e ero quasi overwhelmed non solo dalla città ma overwhelmed by la calmness di persone che stavano sul di questo e e credo che stiamo ancora non stiamo aware di questo che sta succedendo e queste ragioni rappresentano questo momento che ho realizzato che il mio libro che non fosse riguardo la guerra e la politica dovrebbe includere questo elemento importante per la nuova realtà dell'Ucraina di l'unico quando in l'unico che che è un'altra immagine sempre lungo il il corso del di Dniepr e sono due sorelle Roma due sorelle Gypsy diremmo era appena rientrata Justin era appena rientrata da quello che stava iniziando ad essere un fronte nell'est del paese ed era rimasta rientrando completamente così stupita e anche overwhelmed travolta da questa calma che c'era invece in questa città come se le persone ancora non avessero realizzato quello che effettivamente stava succedendo e da lì ha avuto anche questa ulteriore questo pensiero che comunque all'interno del suo libro che non era un libro di guerra ma era un libro che parlava di un paese che stava vivendo un conflitto c'era bisogno di raccontare anche questa parte molto importante che era tutta quella della calma della normalità e anche di chi non si stava rendendo conto di quello che stesse arrivando però io non conflitto persone che protesto e sono freddo di vedere le facette perché io sempre pensavo che non sono per genuine reason però ci sono persone che spavano me in loro modo che erano e hanno le reasons ma c'erano tantissime caratteristiche che io considero di essere questi ragazzi qui. All'interno di questa protesta e Justina dice in realtà per me queste persone rappresentavano una zona d'ombra nel senso che le persone che non si mostrano in volto per me durante le proteste hanno sempre qualcosa come se avessero una sorta di secondo fine e per questo un po' rappresentano queste persone per lei questa sorta di zona d'ombra della protesta. Yeah, this is back in Kiev. It's Anya, one of the people which were affected not because she was fighting but other ways. She was a tourist manager and when they start bringing wounded soldiers back to Kiev military hospital, she dropped her like tourism and all the other activities and for a year and a half, practically fully all the time, she was 24 hours available in the hospital all the time volunteering, helping soldiers. And it was helping from, you know, bringing food to medicines which were missing, crouches some need and legal advices. All the people which were volunteering were really covering the wide spectrum and she's one of them. And then so we are, we were in the corridor where she just get the phone call from the big battle thinking then like many of her friends died in ambush. Later it turns out then not, it was not that tragic but it was, but she cries their thing, you know, she's totally overwhelmed by the whole experience. But, you know, she goes back to the corridor where soldiers are and she just smiles, cracks, chocks and she said like, you know, you don't show them a pity, you have to be strong and you are there for them not to cry with them but to provide, to bring them joy of life. So. This is an image of Ania that was taken out of Kiev. She was a tourist manager, which was a tourist manager, which was a tourist manager that was taken care of and obviously during the war, di turismo non c'era più e quindi per un anno un anno e mezzo ha lavorato come volontari all'interno degli ospedali per aiutare i soldati feriti e ovviamente non come medico ma portando ad esempio cibo medicine anche aiuto legale in quel momento aveva appena ricevuto una telefonata dalla linea del fronte in cui si diceva che alcune delle persone a lei care alcuni soldati erano morti in un imboscata però in quel momento poi ha detto a Iussina non posso piangere non posso tornare indietro piangendo devo mostrare il mio dolore ma devo portare insomma un servizio e una forza alle persone ai soldati feriti. Sì, sì. 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 questo è un'altra foto che è stato molto touchy perché a un momento in cui stavano portare i soldati e portare i soldati da l'interno dell'interno e colpendo il DNA e questo pubblico funerario organizzato dove passersby vanno e vanno e vanno e vanno e vanno e vanno con i soldati con i soldati quindi è un quartiere centrale in la città di Dnipropetrovsk quando le persone vanno e vanno e vanno e vanno per questo funerale di soldati che non conoscono c'è l'exhibition in Kiev di armamenti che si trattano dalla città quindi è stato un momento veramente absurdo la gente si guarda questi strumenti di guerra che si trattano nel loro paese questo era un momento in cui si mostravano alcuni dei pezzi di armamenti del nemico che venivano portati in questa città e venivano esposti in modo che le persone potessero andare a vedere quindi ancora una volta in questa città una situazione veramente surreale quindi c'è un'altra storia che è un'altra storia che è un'altra storia che hai dovuto cercare il mio libro ma è di valera il ragazzo che non per perdere il lavoro era bicicletta in una città all'interno della città e si trattano a una città e qui è in un'altra città a un'altra città per calma il nervo e si tratta di un processo di salire. Quindi si tratta di ogni giorno? Sì, perché la sua casa, la sua casa era una linea, la sua casa era a una parte, e la sua parte dove lavorava era a un'altra parte. Quindi si tratta di bicicletta, perché non voleva perdere il lavoro. Si tratta di bicicletta, e due o tre volte era a scelta. Il suo villaggio è sulla linea del fronte, e dall'altro lato c'era questa fabbrica in cui lavorava. Lui ogni giorno prendeva la sua bicicletta e attraversava il fronte, e in questa immagine si sta mettendo come se fosse una mermaid, una sirena, sulla spiaggia, ed era una delle cose che gli calman i nervi. Beh, sai, è una vita di cascata all'esterno, la tua felicità non devi parlare molto, non c'erano storie, solo la felicità è felicità. C'erano storie, ma magari qualche altra volta. Sì, sono andato al campionato di allenamento per i ragazzi che avevano pensato di diventare volontari, sono andato al campionato di allenamento, per un paio di settimane per vedere se vogliono andare dall'esterno e partire la guerra. Wow. Sì. 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 Questo è un campo di allenamento per giovani sulle montagne, per vedere se volessero poi, c'erano queste due settimane di campus, diciamo, per capire, per far capire loro se volessero effettivamente poi andare o meno al fronte. C'è poi questa cosa assurda di questo fucile di legno. la fotografia precedente era un matrimonio sempre lungo il fiume. Sì. 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 hungarian he which came to visit his son uh he divorced with his wife but him and his ukrainian wife they met in a circus they were working both the circus in italy and you know then then they divorce and then he just comes boy uh yeah lives with the grandmother mom comes and goes i think to work but he comes a visit son also to assess you know they they take care both of the sun despite of being divorced so it's taken by the river they're just having a good time by the river and yeah questa è un'altra immagine lungo il fiume questo è un altro mezzo ungherese mezzo italiano e mi raccontava un pochino la storia di quest'uomo che ha conosciuto it's interesting that you you know a lot of stories about the people you photograph right yeah i always you know i've showed that my book it's like i need to restrain myself i promise myself my next book will have just photographs because the reason one is half as the stories i wrote okay no perché le dicevo che conosce tantissimo le storie no ci sta dire che è mezzo ungherese mezzo italiano che ha divoziato dalla moglie che tiene il figlio per un periodo di tempo eccetera quindi a me ha fatto molto pensare a quanto di fatto poi ci si lega no quanto quanto si lega quanto chiede quanto si fa raccontare lei dice che ha permesso che nel prossimo libro sarà meno logoroica avrà molti meno testi e solo fotografie okay maybe i should become a filmmaker if not too late you know but nothing is there so this is like the book a little bit as i said this this project as every big project i finish with the book uh i show you a little bit of you know left side is the mostly text stories i wrote right side are images and they're mysteriously interconnected it's the concept of the book uh so you can you know uh open they you see uh get on each other left right and here is my inspirations you know i don't know the inspirations comes after questions or now i should go yeah uh let me just uh explain a moment so this is then then you ask me for some books inspirations and e poi le ho chiesto di darci qualche ispirazione qualcosa che che da consigliare a chi a chi lavora con la fotografia qualcosa che per lei è stato importante di qualsiasi genere yeah i was very quite conservative i stick to arts but otherwise we should really be open i think as a photographer but it's the you know as i said i i like films and this is one of the recent 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 i've seen this film recently is an absolutely fantastic it's the you know film about three veterans coming back to states after the world war the second and it's acted fantastically the plot is beautiful perfect it's a fantastic fantastic story about pt about like readjusting to civil life about ptsd and all the other aspects really really recommend i you know as a film critic i didn't knew about this film so it's not that no okay questo è uno dei questo è un film che l'ha colpita moltissimo e racconta del ritorno di veterani dalla guerra e dice che è veramente un capolavoro nel raccontare come ci si può riadattare ad una vita normale dopo aver subito dopo essere stato in guerra comunque dopo aver subito degli eventi traumatici fantastic piece of that i'm what i'm doing here there's some images two books you know which photo books you know i love very much vanessa winship and this particular book is amazing because that's the it's from her catalog from big beautiful books beautifully done catalog exhibitions from her exhibition in spain she had with overview of her work a lot of work a lot of reading and the other one is uh diana arbust but this is the not the main the flag the most popular kind of book you have everything but it's a little bit different uh which goes through her uh magazine work and inside you have you have text some she wrote uh layouts it's a fantastic insight into a process of how she worked how this whole industry was fun working and you know uh how she fit into this so really recommended and wait 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 let me let me just wait um questi sono due copertine di due libri che lei ama moltissimo il primo è un libro di vanessa winship che come artista anche io l'amo moltissimo favoloso questo in particolare è un catalogo di una mostra in spagna invece l'altro è un libro un po meno conosciuto di diana arbust ed è il sul suo lavoro per per le riviste e appunto un lavoro un pochino più sconosciuto ed è una sorta di come dire di spaccato ci sono anche dei testi eccetera ed è una sorta di spaccato anche di come lei lavorava nei commissionati e di com'era il mercato della fotografia dell'epoca and two readings you know i live in georgia and this is a fantastic book by a georgian writer which actually lives in german and writes in german and get the book of the year in germany for writing a story like about the century of life in georgia you know so highly recommended fantastic 800 pages the book you like the book and it only has 200 pages you will not be you know disappointed with this one and yeah and the other one is a border as a essay as a reportage reportages by bulgarian actual poet and writer fiction non-fiction and poetry kapka kasabova about the part of europe by black sea were border of turkey greece i think and bulgaria meet you know so both fantastic reading of completely different type of literature e questi invece sono due libri proprio di diciamo non due libri di fotografia ma il primo è di questo scrittore georgiano che però vive in germania e scrive in tedesco che in germania ha vinto il premio del libro dell'anno insomma sono nell'ultimo secolo in georgia dice sono 800 pagine quindi se siete di quelle persone che amano un libro ne abbia almeno 200 è questo libro per voi un libro storico e l'alto schema border ed è di un di uno scrittore che un poeta tra romanzo non romanzo in questo caso è un reportage che riguarda la zona tra il mar nero la grecia e la bulgaria quella in quell'area thank you thank you thank you simona very much and let's see if there are questions if they are arrived this time in time elisa e si ce n'è intanto una di simona in cui dice ha una domanda forse lo ha detto e me lo sono perso super interessante vedere questa storia che racconta un pezzo di realtà che piano piano subisce una trasformazione a causa della guerra mi piace molto l'idea di avere il denepro scusate come filo conduttore tipo cuore di tenebra come mai ha scelto questo elemento per la storia e come io dirò cuore di tenebra secondo voi in inglese no nel senso come come tradurre il libro simonampe fai subito una ricerca su google della lingua inglese ok so um let me just see just you know where you are okay uh so the first question is like beside the compliments and congratulations on your work and how interesting it is um simona says uh how uh interesting is to see uh how a piece of land and how a country uh changes you know with the work so through times and also she finds very interesting the idea of following the river and like in cuore di tenebra the heart of darkness the book well yeah 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 i think the landscape is something you can rely on you know war is not something you can rely on so i think it's helps you to stay grounded yeah indeed she was asking how did this idea of the river came came up to your mind i have no idea i have no idea it's always my problem i have this idea like i had the idea of my first book to call it woman with the monkey and i feel that it's right but i it takes me a long time to find the words to to explain it and with the river even even now i just i just feel that this is something i needed to do and i don't know why of course river is a huge symbol you know in art in literature in whatever visually it's a beauty it's a power i think yeah it's a calmness also you know so i think river has a lot of things which are very powerful uh and i don't know it's like this there's something you know uh stay very stable about the big river but in the same time in the culture river function as something which is passing which is not stable you know i think this this little thing is quite intriguing in there ovviamente dice il fiume è un simbolo molto potente è un simbolo di bellezza secondo lei di calma e allo stesso tempo qualcosa di molto stabile no soprattutto i grandi fiumi qualcosa che qualcosa che ci dà una sicurezza da un lato una stabilità da un lato ma allo stesso tempo è qualcosa che fluisce che passa indeed to me it made me think about the time no the passing of time the passing of river but you know in the same time when you are standing on the bank of the very big powerful river at the dnipro is very powerful river you do have a sense the time stop you know you know i don't i never you know i think the 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 power of that you know so yeah no i agree because also here in rome when you go to the the river and you sit there when it's close to its end in the sea and it looks like it's actually still it doesn't really look like you're moving so it's uh no justina diceva che la sensazione poi in realtà di quando ci si siede no sulle sponde di questo fiume enorme che ancora non so pronunciare peraltro e la sensazione è quasi come se il fiume fosse fermo e io ho avuto la stessa sensazione sul tevere no vicino alla coce in cui ci sono dei punti in cui sembra veramente che il tevere sia quasi immobile quindi c'è questa sicuramente simbolicamente molto molto potente eli sono vivi ringrazio sono contenti e penso anch'io che sia stato un bel momento non lo so anche con l'incontro precedente parlare di altro in questo momento per foto diverse anche autori che comunque la possibilità di parlare è emozionante quindi ringrazio io sti e grazie great to see you thank you so hope to see you again grazie lisa grazie a voi buonanotte buonanotte